Uno dei difetti della nostra amministrazione è in generale quella di essere incapace di valorizzare quelle che vengono chiamate oramai correntemente le best practices, cioè le buone esperienze che andrebbero copiate. Le cause sono molte, il fatto che non c'è stata una forte continuità, il modello ministeriale è ancora quello pensato da Cavour prima del 1861, il fatto che dopo il periodo del piemontesismo c'è stata una forte meridionalizzazione del pubblico impiego e quindi diciamo che un terzo degli italiani ha dato luogo alla formazione di due terzi della pubblica amministrazione, quindi una asimmetria paese pubblica amministrazione dipendenti pubblici. Non è tutta colpa della burocrazia poi stessa insomma perché vi sono degli elementi negativi che provengono dall'esterno dell'amministrazione. I rimedi sono molti e è difficile elencarli tutti, li ho elencati nel libro da cui prendiamo le mosse. Il primo naturalmente è quello che il legislatore deve seguire una politica di self-restraint, cioè evitare di definire troppo nei dettagli l'azione amministrativa. Il secondo è di scegliere meglio il personale, cioè di fare dei concorsi aperti a tutti dove i migliori vincano. Il terzo è quello di prevedere il duplice accesso che c'è nell'amministrazione inglese e in quella francese, cioè l'accesso ai vertici sulla base della seniority, cioè dell'anzianità e l'accesso ai vertici sulla base del merito che è quello definito con la tecnica inglese che si chiama fast stream, cioè corrente veloce diciamo, che consente ai più capaci di arrivare al vertice rispettando naturalmente la promozione per anzianità sulla base dell'esperienza compiuta nell'amministrazione. Poi un ragionevole sistema di incentivi, perché se non c'è un meccanismo di incentivi e di sanzioni, diciamo, le prestazioni lavorative naturalmente sono meno efficaci. Poi c'è un problema di studiare l'intreccio delle procedure e quindi evitare che l'intreccio delle procedure produca l'inerzia, per esempio non organizzare le procedure in sequenza, ma organizzarle in parallelo. Una più efficace allocazione delle risorse all'interno dell'amministrazione sarebbe molto utile, sarebbe molto utile anche quello che accennavo prima, cioè la pubblicizzazione delle best practice, perché abbiamo delle isole di straordinaria capacità ed efficienza. Ecco, sono tutte cose che non richiedono neppure grandissimi studi, ma ci vorrebbe, come dire, tanta capacità di apprendere molto buonsenso e principalmente una cosa fondamentale, guardare l'amministrazione dalla parte degli utenti dell'amministrazione e non dalla parte degli erogatori del servizio. Noi non abbiamo attuato il secondo coma dell'articolo 3 della Costituzione, ce lo dovremmo ricordare a memoria e lo voglio leggere perché credo che sia una lettura che tutti dovremmo fare tutti i giorni, che dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, lo farei mandare a memoria da tutti i membri della classe politica e anche da tutti quelli che vanno a scuola da cinque anni in poi, questo articolo, che è il principio dell'eguaglianza in senso sostanziale.